sono in grado solo di ascoltare. Buon pomeriggio a tutti e grazie a tutti coloro che in questo momento mi stanno vedendo e sono collegati online su questo webinar che Viero anche quest'anno mette a disposizione. Quindi iniziamo il 2016 con un ciclo di formazioni che ci accompagneranno per tutto l'anno e ho scelto per la prima puntata diciamo di questa formazione un argomento importante. Andremo a fare un percorso su quelli che sono le patologie della facciata, quindi parliamo di diagnosi e soluzioni che Viero con i suoi prodotti vi mette a disposizione. Iniziamo subito a parlare del gruppo Cromology. Cromology è un attore internazionale nel mercato internazionale del mondo delle pitture e delle vernici e fa parte di una multinazionale, di un multibrand quindi fra cui Max Meyer, Duco, Viero, Baldini e Settef. Il leader in Europa per scusate, il leader in Europa, il produttore leader in Europa nella produzione quindi di pitture decorativi e distribuisce in più di 50 paesi del mondo, 9 dei quali presenti con una rete vendita, il fatturato all'incirca di 750 milioni con una rete di 400 magazzini e più di 8500 punti vendita. Iniziamo subito con una novità per Viero, quindi l'accademia che si è inaugurata nel 2016, quindi Cromo Campus, un centro di formazione tecnica professionale e applicativa rivolta a chi? Rivolta a imprese, decoratori, applicatori, progettisti, tecnici commerciali e rivendite. Abbiamo quindi all'interno dell'azienda proprio un'accademia dove ci sono dei corsi che teniamo sulle problematiche su vari cicli che Viero mette a disposizione, quindi temi sul capotto, ristrutturazione, patologie come il tema di oggi e quindi vi invito a visitare il sito www.chromocampus.it dove troverete non solo il calendario per tutto l'anno 2016, quindi potete vedere i singoli corsi, le finalità del singolo corso, ma poi potete anche fare una pre-registrazione per iscriversi a uno dei corsi che mettiamo a disposizione. Quindi torniamo al tempo che oggi abbiamo a disposizione, quindi parlare nuovamente delle patologie della facciata. Come dicevo prima, chiaramente faremo un percorso parlando di quelli che sono le patologie più importanti e comunque quelle che troviamo nei nostri edifici e cerchiamo di capire come intervenire e con quali prodotti possiamo Viero mettere a disposizione proprio per ribonificare e risanare alcune situazioni. Quindi vediamo nel dettaglio quelli che possono essere delle situazioni, delle patologie, così le definisco, quindi dovute a per esempio sollecitazioni meccaniche, fenomeni fisici, interazione fra componenti diversi che vanno a essere posati insieme, cattiva preparazione di impasti o supporti, carezza di manutenzione. farò uno specchietto e un approfondimento su quello che è la manutenzione perché reputo che sia molto importante questo argomento, in futuro faremo un focus proprio soltanto sulla manutenzione delle facciate perché penso che sia necessaria una manutenzione costante degli edifici. Allora, ho iniziato subito a fare una carrellata di patologie e vedere quindi con alcune foto in modo da renderci conto di cosa stiamo parlando immediatamente. Quindi come dicevo prima, sollecitazioni meccaniche, quindi vediamo qui una facciata con una classica delle micro cavillature classiche a ragnatela, presenza di umidità e florescenze, quindi deposito di sali che poi arrivano in superficie. Ancora, cattiva preparazione dei supporti, quindi vediamo alla fine c'è un'incompatibilità anche fra quelli che sono dei materiali, quindi vediamo un screppolarsi, degradarsi la finitura. Impiego di materiali di cattiva qualità perché chiaramente la qualità dei materiali impiegati è molto importante e soprattutto viero, i laboratori di ricerca e sviluppo presenti all'interno dell'azienda chiaramente sono molto sensibili e cercano sempre di formulare o comunque di rispondere a quelle che sono le esigenze di mercato con dei prodotti di alta qualità. Ancora, errata applicazione, vediamo qui soprattutto poi si rispecchia in modo visivo, quindi sull'efficacia quella percepita e di una sovra applicazione di materiali che quindi fanno sì che abbiamo un effetto non a regola d'arte. Carenza di manutenzione, come dicevo, questo palazzo storico comunque dove abbiamo tutta una serie e forse racchiude tutte quelle patologie che ho appena accennato perché abbiamo un po' tutto di più, ma dovuto anche soprattutto il fatto scolorimenti, la presenza forse di alghe, muschi, quindi dovuto soprattutto anche alla carenza di manutenzione che nel corso degli anni non è stata mai fatta e quindi ci troviamo a una situazione poi alla fine posso dire preoccupante perché chiaramente qui gli interventi per bonificarla sono tanti. Allora, parliamo veramente quindi parlando di cicli, quindi immaginiamo di, come ho detto prima, facciamo un percorso, abbiamo visto dei supporti, abbiamo visto delle facciate chiaramente che vanno ripristinate, da dove si parte? Si parte, parlando di cicli, parliamo da un fondo, da un primer. Il primer è importante per diversi motivi, per uniformare l'assorbimento dei supporti perché chiaramente abbiamo su una stessa parete diversi tipi di supporti o presenza di stuccature, quindi è importante utilizzare un primer per regolarizzarne quindi la superficie. Altri, altri primer servono a migliorare l'adesione fra rivestimento comunque una finitura e quindi è lo strato successivo. Il primer e quindi i fondi in generale sono molto importanti perché è il primo step per la riuscita di un lavoro fatto bene. Pensiamo soltanto al, immaginiamo soltanto di dipingere una parete ma senza pensare all'esterno ma semplicemente all'interno. Tutti noi abbiamo ritinteggiato i nostri appartamenti e chi sta utilizzando delle... ricoloriamo le pareti con dei colori forti, un rosso, un blu, quindi dei colori dove riusciamo a vedere anche in traslucido dei difetti. In questo caso se per esempio il muro non è nuovo, comunque ci siamo preoccupati di fare, di chiudere dei fori che precedentemente avevamo fatti o comunque abbiamo utilizzato dello stucco e andiamo a ritinteggiare la parete senza l'ausilio di un primer, chiaramente avremo una tonalità diversa di colore in X punti della superficie. Questo perché? Perché chiaramente il diverso grado di assorbimento dei singoli materiali fa sì che la risposta che noi poi abbiamo visiva del colore è diversa cambiando di tonalità. Ecco perché è sempre necessario utilizzare un primer proprio per regolarizzare l'assorbimento e quindi far sì che anche il colore a questo punto che noi andiamo a sovrapporre sopra sia da una parte ben ancorato e dall'altro brillante. Quindi qui vediamo quella che è la gamma, che i prodotti che Viero in questo caso mette a disposizione, vi mette a disposizione che principalmente si dividono in due classi, quindi acqua e solvente. Fissativo a solvente chiaramente è un fissativo che per sua natura avendo delle molecole molto piccole, più piccole rispetto a quelle dell'acqua hanno una penetrazione più elevata e generalmente viene utilizzato in esterno, mentre i fissativi all'acqua chiaramente penetrano sempre in profondità, però non riescono ad arrivare alla stessa profondità come quello all'acqua, come quella solvente, ma generalmente vengono utilizzati in interno. Una particolarità per esempio della linea Viero è il primer ACQ100 che è un fissativo invece che va a mimare quelle che sono le piccole molecole del solvente ed è formulato proprio con delle piccole particelle che quindi vanno a penetrare in profondità o più in profondità rispetto a un primer normale. Allora andiamo subito quindi a vedere quelli che sono i supporti, quindi i ripristini, il consolidamento e i sistemi e i prodotti compatibili. Allora le situazioni che noi andiamo a trovare quando ci troviamo di fronte a un ripristino chiaramente sono in tonaco che può essere nuovo o vecchio oppure un calcestruzzo e anche qui nuovo e vecchio, quindi chiaramente poi si va a dividere in rifinito, rustico, rivestimenti minerali, rivestimenti organici, calcestruzzo, qui chiaramente le cose un po' si complicano per via della carbonatazione, quindi dobbiamo andare a proteggere il calcestruzzo dalla penetrazione della CO2, quindi nuovo da proteggere, ammallorato da ripristinare e vedremo dopo alla fine come si effettua un ciclo di ripristino sul CLS. Intonaco, quindi intonaco solido, queste sono le principali patologie che noi ci possiamo trovare su un intonaco, quindi può essere solido, compatto, sfarinante, molte volte basta soltanto appoggiare la mano per vederla poi bianca proprio perché sfarina il muro, assorbente o poco assorbente, dove vi è già una pittura o un rivestimento degradato, quindi con delle parti che stanno cascando oppure degli sbollamenti, la presenza di muschi e muffe, questo è soprattutto negli ultimi anni con anche le condizioni meteo che comunque sono molto più ballerine e quindi abbiamo degli inverni più umidi, meno umidi, quindi favoriscono la presenza e la crescita di vegetazione sulle nostre pareti. Stacchi e corrosoni parziali, quindi rappezzi, microcavillature, quindi abbiamo visto prima un'immagine di microcavillature a ragnatela, lesioni lineari, umidità per condensa, soprattutto quella che si viene a formare all'interno delle nostre abitazioni, umidità per risalita capillare e poi degli intonaci decoesi. Andiamo a vedere intanto, perché secondo me è importante anche capire come riconoscere queste e come intervenire su supporti che hanno presente una patologia, quindi se è un supporto comunque solido e compatto, quindi spazzolare la superficie, applicare il suo primer specifico e quindi siamo pronti a questo punto per la fase successiva. Sfarinante, quindi spazzolare fino a quando diciamo lo strato solido, fino allo strato solido e quindi poi andare a consolidare e uniformare con il suo primer. Poi abbiamo quindi intonaci assorbenti più o meno e quindi in questo caso il primer specifico va a regolarizzare il grado di assorbimento. Queste sono alcune immagini che ho voluto portare perché ci rendono, sono delle prove fatte anche in laboratorio, quindi dove noi andiamo a valutare anche la forza di adesione, quindi in un supporto portante, andiamo a valutare la forza di adesione dei nostri materiali e vediamo anche che una volta strappati come si comporta il sotto, molte volte si sfarina e quindi ecco perché è necessario poi andare a uniformare con il primer. Questo è il metodo della quadretatura, molte volte noi tecnici chiamati in cantiere per fare delle prescrizioni o comunque ci troviamo di fronte a delle finiture e dobbiamo valutare se è il caso di asportarle con metodi meccanici, grattarle o quant'altro. Per fare questo cosa facciamo? Facciamo questo classico metodo della quadretatura, quindi una serie di quadratini che facciamo con un piccolo strumento e poi andiamo semplicemente ad attaccarci uno scotch e a staccare e vediamo quant'è la forza di coesione della vecchia finitura sul substrato. Pittura o rivestimento degradato, quindi come vediamo in queste due foto, rimozione totale, chiaramente delintone, con questo caso non abbiamo bisogno di fare una prova di quadretatura ma vediamo già colpo d'occhio che sicuramente è da sportare completamente, quindi anche qui primer. Presenza di muffe, chiaramente se ci troviamo in presenza di muffe e muschi per x motivi e andremo poi a vederlo, quali sono le cause che influiscono sulla crescimento della vegetazione sulla nostra facciata e su quali punti come in questo caso noi vediamo che abbiamo una crescita di vegetazione vicino agli scoli dell'acqua e questo chiaramente ci fa capire che forse ci sono delle altre problematiche lì sul far riuscire l'acqua in eccesso, l'acqua piovane in eccesso. Comunque quando ci troviamo in situazioni da risanare dove troviamo vegetazione sulle nostre facciate, la prima cosa da fare è chiaramente utilizzare una soluzione igienizzante antimuffa, anti-alga perché andiamo a bonificare quindi ad eliminare quelle che sono le spore, quindi andiamo a ucciderle e in questo caso viene a mettere a disposizione il proprio prodotto che si chiama DVB, soluzione igienizzante. È importante, è una pratica che deve essere ben chiara, una volta spruzzata la soluzione igienizzante non dobbiamo asportarla subito perché? Perché dobbiamo aspettare che questa agisca quindi che faccia la sua funzione, una volta solitamente dopo 24 ore chiaramente che siamo sicuri che la soluzione igienizzante ha fatto il proprio lavoro cioè quello di andare ad uccidere quella che è la vegetazione o le muffe che si trovano in quell'area andiamo a fare un bel lavaggio con una idropollutrice a bassa pressione o alcune volte possiamo anche utilizzare dipende dal caso ad alta pressione ma quindi andiamo ad asportare via tutto e a bonificare tutto a quel punto dopo anche qui in questo caso il primo prodotto a utilizzare è sempre un primer. Questo anche qui stacchi e corrosioni parziali perché ho casi di cavillature, micro cavillature perché comunque i sistemi che Viero e lo vedremo più tardi mette a disposizione non riusciamo a risanare quelle facciate dove abbiamo delle micro cavillature ma non andiamo a intervenire su quelli che sono delle delle crepe dovute a cedimenti strutturali. L'umidità di risalita capillare quindi allora il problema è intanto capire da dove deriva l'acqua l'acqua può arrivare e può depositare risalire in modo capillare sulle nostre superfici per x motivi può essere un appartamento a piena terra dove non vi è una serie di glu per rialzarlo dalle fondazioni oppure dal terreno quindi oppure vecchia abitazione oppure si può essere anche creata guarda in tutti quei casi di villette in campagna delle falde nel corso degli anni ci può essere quindi una nuova falda sotto di noi che da una parte può creare decidimenti a livello strutturale dall'altra può creare dell'umidità risalita in questi casi è sempre importante capire da dove arriva l'acqua perché intanto dobbiamo eliminare il problema dell'acqua poi andiamo ad agire con dei prodotti quindi che allontanano l'acqua sotto forma di vapore all'esterno quindi andiamo a utilizzare dei sistemi di umidificanti che aiutano a mantenere la muratura asciutta altra cosa diversa invece che danno a confondere con umidità è l'umido è la condensa che si può creare in alcuni punti e come vedete qui non solo nell'angolo in interno ma si possono creare delle zone calde delle zone fredde come vediamo qui da questa foto a sinistra di questo palazzo dove si è creata della vegetazione soprattutto dove nei muri di tamponamento quindi queste situazioni chiaramente dovute alla condensa creano lo sviluppo di di vegetazione perché dove vi acqua vi è chiaramente abbiamo vite quindi presenza e crescita di muffe muschi e questo poi se la foto sotto invece un un intonaco decoese decoese quindi rimozione in questo caso totale perché chiaramente dovremo riandare a ripristinare soprattutto prima l'intonaco calcestruzzo e gli interventi sul calcestruzzo quindi l'ammalorato come ho detto prima sfarinante anche qui assorbente con rivestimento o rivestimento degradato perché chiaramente è importante andare a proteggere il calcestruzzo perché perché al suo interno va a a custodire lasciatemi usare questo termine quelli che sono i ferri d'armatura che chiaramente quindi devono essere protetti dall'aggressione della co2 quindi dalla carbonatazione anche qui ci possono essere sempre presenza di muffe muschi e rapezzi anche qui si può cavillare e ci possono ci può essere anche nel calcestruzzo umidità per condensa spazzolare in caso di nuovo spazzolare quindi applicare un protettivo anche a carbonatazione ma vado velocemente perché ho dedicato una una sezione come patologia di intervento sul ripristino del calcestruzzo vediamo da che cosa dove dobbiamo stare attenti soprattutto i progettisti dobbiamo stare attenti alcune cose quindi vediamo quali sono le fasi di ripristino quindi diagnostica verifica delle patologie del degrado quindi un'indagine può essere stratigrafica un'indagine diagnostica sulla composizione dei vari strati perché chiaramente ci possono essere più strati che nel corso del tempo si sono andati a sovrapporre uno con l'altro quindi diagnostica progetto quindi abbiamo interveniamo e le materie prime che noi e quindi materie prime nel quindi prodotti finiti che noi dobbiamo utilizzare devono avere fra loro una compatibilità chimica fisica e meccanica con quello che l'esistente perché lasciatemi dire se banalmente una cosa che riusciamo a immaginare tutti mettendo a contatto una malta semplicemente un ripristino fatto una muratura storica in malta pietrame dove noi andiamo ad agire con dei materiali chissà con del una malta base cementizia chiaramente andiamo a ad unire in realtà poi non si uniscono due elementi completi che hanno una natura chimica completamente diversa ma soprattutto hanno in questo caso una forza diversa perché la resistenza compressione del cemento sarà maggiore della della resistenza compressione della della malta base di calcio quindi il più forte andrà a spaccare a rompersi a distaccarsi in questo caso da dal più debole che è la calce infatti per questo ho voluto anche riportare questa bella frase che ho trovato il concetto di ciclo un ciclo di applicazione di finiture si basa sulla posa di uno più prodotti formulati prodotti con materie concetti di contabilità e compatibilità tali da garantire la regola d'arte perché parliamo sempre di fare un lavoro a regola d'arte compatibilità chimica andiamo ad analizzare quindi quelle che vi ho detto la proprietà meccanica chimica e fisica rivestimenti riportati devono aderire al supporto quindi devono essere compatibili con che cosa prodotti minerali andranno ad essere compatibili con materiali minerali e sottofondi minerali prodotti sintetici quindi passiamo possiamo dire quindi anche gli acrilici diciamo un termine legato diciamo allegante proprio della natura del prodotto che noi spesso utilizziamo per indicare un rivestimento una pittura quindi prodotti sintetici comunque quindi su sottofondi minerali sintetici sì è vero però chiaramente è sempre meglio su sottofondi minerali chiaramente andare con rivestimenti finiture minerali perché poi abbiamo dei blocchi delle barriere che fanno sì che ci creano delle delle patologie compatibilità fisica quindi i rivestimenti si bagnano spesso e velocemente devono asciugarsi anche in maniera altrettanto veloce quindi altrettanto veloce quindi parliamo di idrorepellenza e traspedibilità maggiore di quelle del supporto compatibilità fisica io anche abbiamo farei anche un riferimento per chi mi ha seguito anche quando ho parlato lo scorso anno delle micro cavilature della quiete quindi della quiete termica cioè ogni materiale va a un processo di essiccazione a una umidità al suo interno che chiaramente è diversa dal materiale dall'altro materiale che che chiaramente gli viene accostato viene accoppiato quindi se i due materiali vanno a perdere l'acqua in maniera diversa o con tempistiche diversi si vanno a creare delle patologie che in questo caso potrebbero essere delle micro cavilature compatibilità meccanica quindi i rivestimenti non devono strappare il supporto un po quello che vi dicevo prima quindi l'accostamento di due materiali una malta cementizia e una malta base calcio chiaramente il più forte andrà sempre a strappare e a staccarsi da quello che è il più debole quindi mai utilizzare prodotti di natura chimica così diversa quindi andiamo a utilizzare su ripristini di murature in base calcio comunque dove sono stati utilizzati dei prodotti base calcio continuiamo ad utilizzare dei prodotti minerali qual è la funzione di un rivestimento di una pittura quindi quella chiaramente di decorare colorare proteggere proteggere perché ricordiamoci sempre che in questo caso la finitura e il rivestimento sono dei materiali di sacrificio a sacrificio cosa intendo che si sacrificano essendolo resposti alle all'esterno e quindi a quelle che sono anche le intemperie ma comunque anche gli sbalzi di temperatura nei vari cicli climatici che abbiamo durante l'anno sono anche quelli che si sacrificano a al posto dello strato che troviamo al di sotto quindi sono i primi che hanno una funzione di proteggere quindi come possiamo come facciamo a scegliere il giusto prodotto il giusto ciclo in quel per quella per quella per quell'edificio che stiamo andando a risanare dobbiamo analizzare dobbiamo fare quindi il ciclo corretto si analizza in base a un l'indagine quindi come detto prima del supporto il tipo di edificio la giacitura ed esposizione le prestazioni attese io ricordo sempre che su una stessa facciata noi non abbiamo solo un unico ciclo ma abbiamo la possibilità facendo una curata analisi di tutte queste caratteristiche di proporre dei cicli e in parallelo quindi proporre più cicli chiaramente bisogna capire qual è il nostro obiettivo principale e se abbiamo diverse patologie o comunque diverse diverse problematiche andare a scegliere su una scala di valori su quali preferiamo agire quindi migliorare ecco perché ci possono essere più cicli quindi anche qui abbiamo detto analizzare quindi il supporto siamo davanti a un intonaco nuovo, vecchio, irregolare, frabile, assorbente tutto quello che abbiamo visto prima tipo di edificio siamo una villetta monofamiliare oppure un piano terra siamo su un capannone industriale siamo su un edificio in centro abitato siamo su un casale storico in mezzo alla campagna sono chiaramente tutte condizioni che vanno ad influenzare il tipo di materiale che poi andremo a utilizzare nel ciclo come dicevo prima quindi giacitura, centro urbano, montagna pensate il ciclo per bonificare una casa fronte mare sarà diverso o comunque in alcuni casi può essere anche lo stesso di quello montagna ma entrambe le villette sia montagna che al mare chiaramente hanno delle criticità le prestazioni attese come vi dicevo prima quindi la durata, le prestazioni, l'aspetto estetico, il colore allora andiamo quindi a vedere quelli che sono i prodotti e vi ricordo che poi chiaramente sul sito Viero potete andare a vedere a consultare quelle che sono le schede tecniche dei prodotti che andremo a vedere in questo pomeriggio quindi ad approfondire anche i cicli e le prestazioni di ogni singolo prodotto Viero che vi farò vedere quindi iniziamo chiaramente abbiamo parlato del fondo immaginiamo poi di riportare la superficie possiamo quindi rasare abbiamo quindi collanti rasanti in pasta come in caso del Adesan CPSB che è anche all'interno ricordo di un sistema certificato quindi sistema certificato a cappotto ma abbiamo anche tutta una serie di collanti rasanti in polvere quindi bianchi e grigio con diverse granulometrie che vanno da 0,5 fino a 1 tutte queste caratteristiche che io ho riportato comunque per semplicità anche per chi poi voglia approfondire e rivedere questa formazione può trovare come ho detto prima tutte le spiegazioni e consultare tutte le schede tecniche sul nostro scritto e scaricarle ovviamente abbiamo due classi abbiamo detto tre classi di prodotti di rasanti quindi in pasta e in polvere che sono comunque sempre base cementizia e in alcuni come l'Adesan Lime base minerale per quei cicli che noi facciamo anche su ripristini di murature storiche e poi abbiamo un prodotto molto interessante a mio avviso che è l'arma clima quindi un rasante in pasta in questo caso non parliamo di collante rasante ma soltanto un rasante in pasta per sistemi in questo caso di isolamento ottimo per sistemi di isolamento termico a cappotto ma anche come un rasante universale e in questo caso in pronto all'uso cioè mentre sia quello in pasta va addizionato con una parte di cemento 325 grigio e quello in polvere invece va comunque bagnato con dell'acqua per arrivare alla consistenza di applicazione in questo caso abbiamo il prodotto arma clima che è un rasante pronto all'uso quindi apriamo il secchio ed è pronto e non essendo a base cementizia quindi non avendo la criticità di essiccazione della parte cementizia che quindi comporta diversi giorni per stagionare è pronto ed è sovraverniciabile e sopraapplicabile con la finitura dopo 48 ore e questo chiaramente è molto importante perché chiaramente in tutte quelle situazioni dove abbiamo un ponteggio, dove abbiamo l'uso di un suolo pubblico e quindi che in casi tradizionali ci richiedono il pagamento del suolo pubblico per 10-15 giorni in questo caso noi nel giro di circa 5 giorni massimo una settimana siamo riusciti a rirasare una facciata e a riapplicarci sopra una finitura senza aspettare che come un rasante tradizionale la parte cementizia, il legante cementizio vada in essiccazione e quindi sia pronto per essere sovraverniciato allora parliamo di finiture e decorazioni abbiamo diviso, ho cercato di dividere i rivestimenti e comunque i rivestimenti sia a spessore ma anche quelli lisci quindi pitture, non solo tonacchini come la maggior parte un termine di via che la maggior parte d'Italia viene utilizzato come sinonimo di rivestimento a spessore col granello quindi in minerali sintetici elegante misto che sono diciamo una via di mezzo gli acrylsilosanici per intenderci quindi minerali o inorganici chiaramente impiegano come elegante calce, silicato, cemento ma facciamo riferimento soprattutto in questo caso parliamo di finiture, pitture o rivestimenti calce e silicati organici hanno una colla, quello che dicevo prima gli acrylici diciamo quello che vi dicevo prima e elegante misto impiegano una via di mezzo allora andiamo ad analizzare quelli che sono le famiglie quindi calce le nostre finiture chiaramente abbiamo una linea viene a mettere a disposizione una linea di finiture di prodotti base calce calce aerea in funzione quindi a norma N459 la norma che regola l'utilizzo delle calce nei prodotti da costruzione che cos'hanno di particolarità perché utilizziamo un prodotto minerale per esempio calce una elevata permeabilità al vapore un'eccellente resa estetica sono stabili alla luce quindi agli UV una buona resistenza all'attacco di muffe e funghi perché chiaramente la calce ha un pH molto elevato e quindi chiaramente contrasta quella che è la crescita di muffe e funghi dove le applichiamo le applichiamo su supporti nuovi stagionati assorbenti tutto quel porosi compatti ma soprattutto le andiamo ad applicare su fondi o intonaci minerali perché perché cerchiamo di mantenere dei flussi che dall'interno dell'abitazione vanno verso l'esterno verso l'esterno e quindi chiaramente per fare questo dobbiamo far sì che non ci siano barriere interposte fra erico perché è fondamentale usare minerale su minerale come si applicano i tonacchini bagnare a rifiuto è fondamentale come abbiamo visto prima quando parlavo dei primer non ho parlato di un primer per la calce perché i prodotti della calce chiaramente non hanno necessità di un primer ma l'acqua in questo caso fa da primer quindi semplicemente bagnando a rifiuto l'importante è che l'acqua non sia visibile ma il supporto l'abbia assorbita perché se rimanesse dell'acqua in superficie chiaramente quando andiamo a mettere uno strato che può essere una malta a base calce chiaramente questa scivolerebbe e non si aggrappa quindi è importante bagnare a rifiuto sì ma bagnare casomai il giorno prima in modo tale che la muratura sia umida ma non completamente bagnata anche il tinteggio chiaramente l'effetto che diamo un effetto decorativo a mio avviso della calce chiaramente non è quello di una pittura acrilica quindi non andremo completamente in copertura proprio perché è una particolarità della calce e andiamo quindi anche a giocare su quelli che sono i chiaroscuri e gli effetti che riusciamo a fare con le pitture alle calci chiaramente se il nostro obiettivo è quello di andare in copertura completa copertura chiaramente la scelta di una pittura alla calce non è sicuramente la scelta migliore quindi vediamo una serie di prodotti di preparazione che trovate nel nel catalogo Viero quindi malte fini come il restauro a fini c'è una serie di finiture quindi di pitture quindi dal Vixalit vela fixe una velatura proprio per rinforzare anche quei chiaroscuri tipici delle pitture alla calce che troviamo negli edifici storici monumentali e il visor calce quindi un rivestimento a spessore i silicati quindi altro prodotto minerale caratterizzato in questo caso il legante in questo caso non è la calce ma un silicato di potassio quali sono le peculiarità di questa tipologia di leganti quindi vanno a considerare il supporto stabilità la luce hanno un gradevole aspetto estetico perché a differenza in questo caso delle finiture delle pitture alla calce o al grassello di calce riusciamo ad avere una compattezza del colore anche una una brillantezza del colore ritorniamo e riabbiamo le stesse caratteristiche dette prima per un prodotto alla calce quindi permeabilità al vapore ottima resistenza agli agenti atmosferici e anche qui elevata resistenza all'attacco di muffe e funghi proprio perché sempre anche in questo caso partiamo da un pH elevato sopra comunque 11 dove si applicano? qui possiamo fare delle differenze chiaramente possiamo vanno applicati su supporti minerali quindi quindi sempre per mantenere quello che ci siamo detti mantenere dei flussi in uscita che dall'interno vanno verso l'esterno ma possiamo anche utilizzarli su dei supporti non minerali utilizzando un proprio fondo che è un fondo ai silicati e in questo caso il fondo è fondamentale quando utilizziamo pitture e finiture in generale e silicati è chiaramente fondamentale utilizzare un primer un fondo ai silicati perché si scatenano delle delle reazioni chimiche che fa sì che non vi siano degli strati ma degli strati separati ma vi sia soltanto un unico si va a creare un unico strato un unico prodotto e questo avviene proprio perché fra i minerali fra il fondo e la finitura sopra si va a installare delle reazioni chimiche vediamo qui quelli che sono alcuni dei prodotti quindi dai fondi dei fondi e silicati il vero grip plus e il silica fond sd e alcune delle finiture il silica paint il silica nova viso silica ot che a norma din quindi segue quelle che sono una norma una norma di origine tedesca dove non vi è più del 5% di organico all'interno e quindi praticamente molto minerale i silossanici i silossanici quindi all'interno abbiamo un prodotto quindi un silicone ma non immaginiamo il classico silicone quello utilizzato per sigillare quindi una molecola simile della stessa famiglia comunque che viene utilizzata nelle pitture che aderisce al supporto formando un film quindi abbiamo detto che i prodotti le pitture alla calce le pitture silicati non formano un film perché vanno ad integrarsi con il sottofondo creando un'unica cosa in questo caso andiamo invece a creare un film ma un film ad elevata idrorepellenza e traspirabilità perché chiaramente queste sono le principali caratteristiche di un prodotto ai silossani quindi idrorepellenza buona permeabilità al vapore stabilità alla luce e dei raggi UV elevata resistenti agli agenti atmosferici perché è una conseguenza avendo un'elevata idrorepellenza chiaramente l'acqua non viene non riesce ad aggrapparsi sul film ma scivola via hanno una facilità d'applicazione hanno un aspetto fisico gradevole chiaramente compatto e possiamo intervenire a differenza di pittura alla calce con una gamma infinita di colori e possono essere chiaramente applicati su supporti nuovi o comunque supporti o trattati ho voluto riportare in questa slide quella che è la teoria diciamo più accreditata per la valutazione di un sistema verniciante che è quella della teoria di Kunzel che come vediamo vediamo sulle ordinate vediamo quanto è traspirante e sull'asse delle ascisse vediamo l'idrorepellenza qui in base a quelle che è diciamo l'equilibrio della teoria di Kunzel vediamo e ho voluto mettervi con diversi colori le varie tipologie dei prodotti quindi partendo anche per farvi capire ho messo anche degli smalti perché ci dà un'idea della di quanto possa essere poco traspirante rispetto a una pittura silossanica a una pittura silossanica che come vedete sono la parte diciamo che ha più traspirante e più traspirante e più idrorepellente una pittura e silicati chiaramente meno diciamo idrorepellente però ha un'ottima ha una buona un'ottima traspirabilità quindi questo ci dà sempre un'idea su quelle che sono ci aiuta bene a capire come vedete uno smalto assolvente uno smalto all'acqua chiaramente sì sicuramente sono molto idrorepellenti perché il loro film molto chiuso molto compatto chiaramente respinge l'acqua ma traspirante la traspirabilità è praticamente nulla ecco queste vi faccio vedere due immagini di seguito una finitura tradizionale vediamo come si comporta in questo in questa parte qua questa è una muratura diciamo schematica una stratigrafia molto schematica vediamo la parte azzurra che ora dove ho rappresentato l'acqua piovana vediamo su una finitura tradizionale come l'acqua si aderisce alla superficie quindi spancia aderisce ma rimane e rimane ben ancorata quindi andando anche a penetrare vediamo cosa succede invece la quando la pioggia va a l'acqua piovana si trova su una superficie dove vi è una finitura silossanica vedete che si va a creare un po' quello che è l'effetto lotus della pianta l'acqua non va ad aggrapparsi quindi non ha la possibilità di aderire di rimanere ancorata alla superficie ma si creano una serie di goccioline che ruotando su se stesse vanno a scivolare giù lasciando quindi la superficie il più possibile asciutta o comunque anche la quantità di acqua che si dovrebbe rimanere in superficie è anche quella che si asciuga molto velocemente ruotando la goccia su se stessa chiaramente cosa fa va anche a diciamo autopulire la facciata perché ruotando va anche a portare con sé trasporta con sé verso il basso quelle che possono essere delle particelle di smog o comunque di sporco che si sono depositate sulla facciata quindi andiamo anche a mantenerla più pulita allora i silossanici dove si applicano chiaramente sempre tonaci nuovi vecchi quindi tutti i prodotti li possiamo applicare su tonaci nuovi abbiamo visto o vecchi già trattati hanno un loro primer anche qui in questo caso come i prodotti minerali silicati hanno un loro primer anche in questo caso è fondamentale utilizzare un primer ai silossani perché chiaramente in questo caso manteniamo una certa traspirabilità la manteniamo utilizzando un primer silossanico quindi che ha un'elevata traspirabilità dove andremo poi a metterci una pittura silossanico con lo stesso grado di traspirabilità quindi non utilizziamo in questo caso non confondiamo e non utilizziamo soprattutto dei primer acrilici perché utilizziamo se utilizziamo un primer acrilico chiaramente creiamo quella che è una patologia perché è vero che la finitura si va ad aderire senza problemi al primer acrilico ma essendo la natura dell'acrilico comunque meno traspirante andremo a bloccare dei flussi e quindi a creare dei rigonfiamenti oppure comunque degli sfogliamenti quindi è sempre importante utilizzare la stessa classe e la stessa tipologia di legante tra il primer e la finitura che andremo a mettere sotto ecco qui alcuni dei prodotti che la linea viero ha con prodotti a base silossanici quindi l'acrossilafis attivo silossanico all'acqua e l'S quello assolvente e tutta una serie di finiture da lisce a rivestimenti di grana 1,2 e 1,5 andiamo a parlare un po' quelli che vi stavo accennato prima quelli degli acrilici quelli che poi tutti noi chiamiamo volgarmente comunque acrilici aderiscono 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 quindi al supporto formando un film anche qui abbiamo uno strato quindi la protezione in questo caso viene data dal film che si viene a formare ecco perché molte volte abbiamo degli sfogliamenti cosa che non possiamo avere su delle finiture minerali nel caso delle finiture minerali degradate avremmo degli sfarinamenti nel caso di una finitura acrilica comunque sintetica avremmo uno sfogliamento proprio perché vi è un film ma quali sono le particolarità e le diciamo le le caratteristiche di questa tipologia di prodotti quindi stabilità alla luce raggio V una buona resistenza agli agenti atmosferici una vasta gamma di una vasta gamma in aspetto estetico quindi diversi una diversità di colori che possiamo andare a replicare una facilità di applicazione sia a rullo che a pennello e sono anch'essi applicabili su tutti i supporti nuovi o trattati non è diciamo abbiamo parlato prima di traspirabilità non è proprio del tutto vero comunque anche una pittura un rivestimento acrilico comunque ha un grado di traspirabilità chiaramente non elevato come una finitura minerale o silossanica ma anche questa tipologia di prodotti comunque ha un sufficiente grado di traspirabilità quindi comunque dei flussi di vapore sono sempre garantiti quindi non associamo a una finitura acrilica quello che può essere uno smalto chiaramente sono due cose diverse uno smalto a pochissima traspirabilità una finitura acrilica sintetica comunque ha un grado sufficiente di traspirabilità anche qui si applicano sui tonaci nuovi o vecchi già trattati come prima va utilizzato anche in questo caso un primer della stessa natura i rivestimenti le pitture quindi hanno un'ottima applicabilità per quanto riguarda le finiture lisce sia a rullo che a pennelli mentre quelli a spessore chiaramente vanno si applicano con frattazzo in acciaio o in plastica dipende dall'uso e dell'abitudine che abbiamo questa è una serie di prodotti quindi da come dicevo prima primer solvente primer all'acqua primer come ho detto prima microemulsioni proprio perché la particolarità di questo prodotto quello di avere che una microemulsione quindi di avere delle molecole molto piccole che comunque vanno che penetrano nel sottofondo più un fissativo quindi tinteggiabile soprattutto utilizzato per i sistemi di viroclima quindi sistemi di isolamento termico cappotto dove andiamo quindi a sopra la rasatura quindi di colore grigio chiaramente andiamo a tinteggiare il primer in modo tale che anche l'effetto estetico una volta posato il rivestimento sia più compatto e quindi esteticamente visivamente molto più armonioso quindi troviamo ancora sempre prodotti di preparazione quindi prime dell'ancoraggio un fondo riempitivo quindi ha una certa grana quindi che va anche a riempire la superficie e quindi abbiamo le due varianti l'OR e il Viero Fond finiture quindi pittura acrilica Viero Quarsi quindi tutta una serie di pitture al quarzo la pittura al quarzo secondo me è un ottimo compromesso per quelle che riguardano alcune caratteristiche perché chiaramente è vero che è una pittura acrilica quindi si forma un firm ma abbiamo allo stesso tempo un quarzo quindi un minerale come sappiamo che ha delle proprietà molto dure quindi vanno ad unire le pitture al quarzo vanno ad unire una serie di caratteristiche che chiaramente fanno sì che il prodotto sia un prodotto molto valido e anche una delle finiture più utilizzate che noi utilizziamo spesso nel ripristino delle nostre facciate e poi tutte quelle che sono le finiture a spessore alcune certificate all'interno del nostro sistema bieroclima quindi che hanno un benestare rilasciato hanno un benestare ETA quindi e quindi vanno rispondono a quelle che sono le caratteristiche del richieste dall'ETAC 004 c'è la norma o meglio il benestare tecnico europeo e troviamo tutta una serie di grane quindi da un millimetro all'1,2 l'1,5 quello chiaramente più più utilizzato nei sistemi a cappotto la grana più utilizzata nel sistema a cappotto e la grana consigliata nel caso di rivestimenti a cappotto da un rivestimento elastomerico come tutta la gamma Viero Acryl Flex quindi lo stesso anche qui finiture a spessore il Visor Plast RST rivestimento plastico continuo ad effetto rustico grani fatto di una serie di graniglie di marmo che non sono colorate ma l'insieme di queste graniglie che hanno una colorazione chiaramente naturale vanno a far sì di avere un effetto estetico molto bello allora ho voluto alla fine diciamo della spiegazione comunque della formazione su quelle che è la divisione delle varie finiture ho voluto riportare poi in tabella quelle che sono delle caratteristiche di ogni singola singola scusate di una singola tipologia di legante in base a delle caratteristiche quindi rispetto alla facilità di applicazione alla riproducibilità dei colori ampiezza di gamma traspirabilità riduzione dell'assorbimento l'acqua resistenza meccanica e fisica prendiamo alcuni prendiamo due opposte un acrilico quindi facilità di applicazione riproducita di colori come abbiamo visto gamma infinita di colori ottima ampiezza di gamma ottima traspirabilità come vi ho detto prima sufficiente ma garantita riduzione dell'assorbimento d'acqua buona resistenza meccanica e fisica ottima andiamo a prendere per esempio un prodotto alla calce l'estremo buona la facilità di applicazione buona la prioricità dei colori buona l'ampiezza di gamma ottima traspirabilità abbiamo visto che la natura della calce è quella di avere un'elevata traspirabilità riduzione dell'assorbimento d'acqua chiaramente sufficiente perché sappiamo i prodotti alla calce comunque tendono ad assorbire acqua anche se nello stesso momento in cui assorbono l'acqua hanno la la particolarità di rilasciarle di asciugarsi molto velocemente resistenza meccanica e fisica e buona comunque questo è uno strumento che poi comunque potete scaricare e vi da in prima battuta anche potete fare delle considerazioni da soli su quale tipologia e quale classe di prodotto utilizzare parliamo del CLS il calcestruzzo quindi la riparazione e protezione del calcestruzzo quindi frontalini dei balconi la ricostruzione dei fregioni armamentali e dei cementi decorativi chiaramente quindi parliamo di una determinata tipologia di interventi che viero e quindi di prodotti che viero mette a disposizione perché chiaramente non utilizziamo i prodotti per tutta questa serie di cose che vi ripeto quindi frontalini di balconi la ricostruzione di fregioni armamentali e dei cementi decorativi chiaramente non stiamo ad intervenire su calcestruzzo ammallorato di dighe o ponti quindi andiamo ad intervenire su calcestruzzo ammallorato di abitazione o d'uso civile quindi degli edifici allora qual è il decrado principale la corrosione quindi perché la corrosione perché spiegavo quindi la carbonatazione è è un grosso problema per quello che riguarda i ferdi di armatura i tondini all'interno del affogate all'interno del del CLS perché perché abbiamo quindi chiaramente un attacco acido anidride carbonica e solforosa il pH quindi ossidazione dei ferri aumento di volume chiaramente abbiamo un'ossidazione quindi si forma della ruggine si forma del aumento di volume quindi in questo caso rottura e quindi si vanno a formare quelle crepe e quindi si formando anche una crepa più più grande fa sì che alimentiamo sempre più la corrosione del ferro d'armatura come interveniamo interveniamo con prima cosa pulitura dei ferri è rigoroso ritogliere di nuovo tutta la parte ossidata quindi trattamento con antiossidante a norma 1504 perché la 1504 è la norma dedicata nelle sue varie nelle varie parti che si compone questa 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 norma è la norma dedicata per il calcestruzzo e soprattutto la parte 7 ricostruzione con delle malte a norma perché è importante perché chiaramente è importante dobbiamo andare a riproteggere il calcestruzzo dalla penetrazione quindi dobbiamo bloccare la penetrazione dell'acqua e quindi della CO2 quindi un passivante il profermono quindi che va a risanare l'ossidazione dei ferri poi dobbiamo utilizzare tutta una serie di prodotti chiaramente che anticarbonatazione quindi useremo in primis una malta tixotropica il tixocrate rapido quindi una malta cementizia per andare a ricostruire quello immaginiamo un angolo di un pilastro o un frontalino quindi riandiamo a ricostruire la parte mancante o comunque la parte che noi abbiamo rotto per arrivare ai ferri d'armatura e quindi per fare il trattamento col profermono e qui nelle immagini si vede molto bene quindi vi dicevo pulitura dei ferri e trattamento con il profermono realizzazione di una boiacca da gancio chiaramente utilizzando il tixocrate rapido quindi una maltina allungata un po' di più con l'acqua andiamo a formare una piccola boiacca che farà sì che e facilita l'aggrappo poi della malta anticarbonatazione quindi applicazione del tixocrate rapido rifinitura rifinitura dello stesso e poi andiamo a proteggerlo con una pittura liscia anticarbonatazione e quindi il viero bettono opaco è importante e svolge un ruolo importante l'applicazione della finitura finale perché chiaramente andremo a fare due mani sicuramente per far sì che lo strato di finitura sia necessario per contrastare la penetrazione e quindi per preservare la carbonatazione dei ferri allora chiudiamo con gli ultimi due argomenti che sono quelli che trattiamo adesso sulle lesioni velocemente ricordo che questo è una formazione che ho fatto l'anno scorso e quindi trovate un approfondimento un focus solo esclusivamente su quelle che sono le fessure e come riconoscere e risanare le fessure sulle nostre facciate quindi lo trovate su youtube ma vedete tutto il video con tutti gli approfondimenti però ho voluto tra quelle che sono le patologie ho voluto inserire anche le lesioni in modo veloce perché fa parte sempre di una patologia quindi come riconoscere intervenire il ciclo di lavorazione più adatto le rasature armate rasanti dedicati i prodotti elastomerici quali sono le caratteristiche di un elastomerico quando utilizzarli e la loro applicazione quindi delle lesioni come abbiamo visto all'inizio del nostro corso in quella fotografia di quell'edificio che presentava delle lesioni a ragnatela come in questo caso che sicuramente sono delle micro cavilature a ragnatela creatosi da delle sbalzi di temperatura o da una diversa da un diverso tempo di essicazione dei vari materiali che quindi chi prima chi dopo va a creare uno squilibrio e quindi creando queste antistetiche cavillature poi abbiamo tutta una serie di lesioni lineari che si si creano soprattutto nelle zone di tamponamento e pilastro marcapiano e in questo caso sono i lineari ma molto spesso vediamo che abbiamo delle lesioni oblique che partono dall'angolo delle nostre finestre o delle delle nostre porte e generalmente sono delle lesioni dovute a degli assestamenti assestamenti perché chiaramente se non rispettiamo soprattutto quando andiamo in fase di costruzione di edifici nuovi non andiamo a rispettare quella che la quiete che si deve andare a creare dei vari materiali quindi dalle e dai mattoni alla costruzione dei pilastri quindi se non andiamo a rispettare quelli che sono i tempi di essicazione naturali di tutti questi materiali si possono creare degli squilibri che creano quindi delle delle lesioni più o meno profonde noi i prodotti che noi abbiamo a disposizione e che vi mettiamo a disposizione chiaramente sono dei dei cicli per tutte quelle situazioni di micro cavillature ma non possiamo intervenire in questo caso con delle lesioni di carattere strutturale dove sicuramente servono dei cicli adeguati o comunque degli approfondimenti approfondimenti per quello che riguarda le fondazioni o comunque dei carotaggi nel terreno ma andiamo in altri campi come si interviene e ricordo su andando a prendere il webinar che trovate su youtube andate a vedere nello specifico quelli che sono tutte le fasi della risoluzione del come risolvere le micro cavillature in facciata quindi comunque andiamo velocemente a vedere spazzalatura energica del supporto applicazioni di un primer assolvente in questo caso è fondamentale perché abbiamo bisogno di un primer ad alta penetrazione che vada a consolidare nei casi in cui abbiamo delle delle crepe un pochino sopra i 05 dobbiamo andare ad aprire la crepa del doppio della sua misura iniziale e a riempirla con uno stucco il Veroflex stucco e poi dove andremo ad annegare la garza in modo tale da avere una maggiore tenuta e poi andare a finire il ciclo con il Veroflex fond e poi quello che può essere sopra il fondo una pittura liscia una pittura elastomerica liscia una pittura elastomerica al quarzo o un rivestimento a spessore elastomerico questo è quello che vi dicevo prima la stuccatura come vedete nella foto in alto a destra della lesione con lo stucco e l'annegamento della 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 garza il fondo il fondo ha un ruolo fondamentale in un sistema elastomerico perché è quello che mantiene e saldo tutto il sistema quindi va dato a spessore ed è fondamentale che ci sia perché regge il sistema elastomerico quello che noi andiamo a mettere sopra chiaramente una pittura liscia un quarzo elastomerico o un rivestimento elastomerico contribuisce chiaramente alla tenuta ma il ruolo principale è l'applicazione del fondo quindi del vero flex fond l'ultima patologia riguarda l'umidità per risalita capillare e quindi vediamo quello che è il ciclo l'umidità l'acqua o meglio non è non è il problema principale dell'umidità o meglio cerco di spiegarmi meglio immaginiamo Venezia gli edifici storici di Venezia chiaramente dove stanno sull'acqua dove abbiamo i problemi li abbiamo al di sopra del livello dell'acqua quindi tutta la parte che sta immersa nell'acqua non ha problemi perché perché chiaramente i sali disciolti nell'acqua sono disciolti dove ce li abbiamo e quindi non creano nessun tipo di problema dove abbiamo il problema il problema l'abbiamo quando si va via l'acqua quindi si ha un deposito di sali i sali rimangono nella muratura si creano delle florescenze se vi sono degli sbalzi importanti di temperatura chiaramente il sale che è un cristallo aumenta di volume andando a spaccarsi e quindi si creano una serie di problematiche quindi è importante chiaramente capire cosa che intervento andiamo a fare con un sistema di umidificante sono sostanzialmente due i prodotti che vanno ad agire su un sistema di umidificante intanto anche qui come dicevo inizialmente bisogna capire dove da dove arriva l'acqua perché c'è l'acqua se è possibile andare perché molto spesso abbiamo uno scolo in esterno che non è adeguato e quindi non fa scivolare l'acqua ma oltrevolto mi è capitato anche delle piccole perdite che si accumulano nel tempo e fanno sì che ci sia dell'acqua quindi intanto andare a capire da dove arriva l'acqua capire quant'acqua c'è in quel caso perché è importante capire perché in base a quant'acqua c'è chiaramente andremo a fare uno spessore più o meno importante di malta addomidificante in questo caso di restauro addomidificante quindi dicevo sono due i prodotti diciamo fondamentali uno che è una barriera antisale c'è una malta macroporosa da rinzaffo che serve quindi sia per il deposito dei sali quello che vi dicevo prima sia per facilitare l'aggrappo della macrocellulare della malta macrocellulare restaura domidificante che che cos'è una una malta macrocellulare è un contenitore è un contenitore di acqua perché fondamentale sostanzialmente un sistema modificante è un contenitore che quindi può andare anche in insaturazione nel corso di 5 6 anni dipende sempre come dicevo prima dalla quantità di acqua che stiamo andando a risanare e chiaramente quindi anche la sua funzione anche il suo strato come dicevo sarà importante il sistema macrocellulare fa sì che l'acqua a quel punto attraverso la barriera l'antisale arrivando poi alla malta a restare l'emerificante si trasforma da liquido in vapore e quindi la maggior parte fuoriesce mantenendo e quindi garantendo una superficie asciutta chiaramente va alla fine il ciclo va concluso utilizzando poi una finitura che chiaramente deve essere una finitura minerale quindi una finitura base calcio legante base calce una finitura a base di silicato di potassio ma perché perché chiaramente andiamo quindi a garantire questo flusso che dicevo quindi l'acqua che va dal muro attraverso il rinzaffo viene poi diciamo così tra virgolette trasformata dal sistema macrocellulare e fuoriesce un vapore fuoriesce attraversa anche la finitura e quindi fa sì che la nostra muratura sia asciutta bene queste ho cercato di riassumere più o meno velocemente ma ricordo sempre che ci sono a disposizione e potete rivedere poi questo video la registrazione di questo video su youtube ho cercato comunque di fare un'analisi logica su quelle che sono le patologie le cause e i sistemi di intervento e quindi i prodotti che Viero e l'esperienza importante che Viero ha avuto nel corso degli anni e che ha sulla cantieristica quindi che vi mette a disposizione con uno una serie di tecnici a vostra disposizione e due con una serie di prodotti di alta qualità studiate appositivamente per ogni causa e per risanare tutte quelle situazioni che ogni giorno ci troviamo ad avere sulle nostre facciate ora noi sono pronto ad interagire online con voi quindi avete la possibilità di scrivermi o qualcuno forse ha già scritto delle domande durante questo periodo quindi aspetto adesso che mi passino quelle di raccogliere quelle che sono le vostre domande che avete scritto e cerchiamo e cercherò di rispondere il più possibile a tutti dove non non vi preoccupate perché a tutte quelle domande per mancanza di tempo a cui non riuscirò a rispondere online ma non vi preoccupate perché risponderò nei prossimi giorni ad ognuno di voi singolarmente via email quindi comunque tutte le vostre domande poi saranno rispondere a tutte le domande ecco arrivano le prime domande allora posso usare il fissativo assolvente all'interno certo diciamo non possiamo utilizzarlo benissimo un fissativo assolvente all'interno perché lo sconsiglio perché chiaramente avremo ci portiamo all'interno della nostra abitazione un solvente quindi anche un cattivo odore di solvente che chiaramente può rimanere per diverso periodo al nostro interno quindi chiaramente non è consigliato utilizzarlo all'interno però a livello tecnico è possibile utilizzare un primer per interno altra domanda come intervento sulle crepe strutturali come dicevo noi noi come Viero non andiamo ad intervenire su quelle che sono delle crepe strutturali ma andiamo soltanto ad intervenire su quelle che sono delle cavillature delle micro cavillature quindi dove conosciamo una natura e dove possiamo intervenire sia con l'ausilio di rasature armate sia con dei sistemi elastomerici ma noi andiamo possiamo intervenire con una tipologia di prodotti soltanto su quelle che sono delle micro cavillature altra domanda quale pittura quale tipologia scusate di quale tipologia di pittura per esempio silossanica acrilica eccetera è più corretta più corretto usare nel ripristino di una facciata ecco fa un po' riferimento a a quello questa diciamo riassume quello schema che vi ho fatto vedere dove ho riassunto tutte quelle che sono le caratteristiche della tipologia dei prodotti in base alla tipologia di legante chiaramente diciamo bisogna sempre partire da cosa ci da quale substrato ci troviamo di fronte quindi siamo su murature edifici fatte con prodotti minerali quindi andremo a utilizzare finiture minerali possiamo utilizzare finiture anche silossaniche perché chiaramente quindi manteniamo un'elevata traspirabilità e una protezione quindi e una ridorepellenza ci sono casi in cui forse la situazione più il ciclo più raccomandato è banalmente fissativo assolvente o ripristino rasatura armata quindi per ripristinare l'intonaco poi una finitura al quarzo o un rivestimento acrilico perché non abbiamo delle criticità chiaramente se ci troviamo come dicevo prima la giacitura di un parlavo prima della disposizione dell'ubicazione di un edificio se ci troviamo in un in un edificio che si trova circondato da tanta vegetazione poi chissà a nord quindi il sole non abbiamo poche ore di luce in quella parte della facciata chiaramente chissà andremo a utilizzare dei cicli silossanici perché chiaramente si asciugano velocemente respingono l'acqua e quindi facciamo sì che non ci siano degli accrescimenti di vegetazione soprattutto di spore che arrivano da da alberi o da vegetazione vicina che sta intorno alla nostra abitazione quindi bisogna sempre fare riferimento nella scelta di una tipologia prima di tutto il tipo di supporto chiaramente è fondamentale e che tipo di muratura ci troviamo davanti che tipo di superficie che tipo di intonaco poi dobbiamo incominciare a fare delle scelte qual è il nostro obiettivo quindi dobbiamo aumentare la traspirabilità l'idrorepellenza l'ubicazione è importante e a quel punto incrociando con quella tabellina quelle che sono le caratteristiche sicuramente otteniamo il prodotto più indicato per la tipologia di risanamento che ci troviamo davanti altra domanda è possibile che il primer assolvente vetrifichi la superficie diminuendo l'adesione questa è una domanda alcune volte altre volte mi hanno fatto c'è sempre questa convinzione è noto anche adesso che vi è ancora questa convinzione che il primer assolvente va a vetrificare la superficie e quindi vetrificando la superficie ne va a diminuire l'adesione non è assolutamente vero intanto perché non vetrifica nulla uno abbiamo detto prima e lo ripeto anche adesso il primer assolvente ha la particolarità di avere delle particelle molto piccole che vanno a penetrare in profondità quindi alla fine non si viene a formare nessun tipo di film ma va tutto all'interno quindi non formandosi film non abbiamo nessun tipo di non si vetrifica nulla e quindi non diminuisce anzi il primer assolvente soprattutto in esterno su alcune condizioni è importantissimo e fondamentale perché da una parte penetra e quindi significa che va a consolidare e infine uniformare la superficie cose diverse se ci troviamo e stiamo andando a risanare a fare della manutenzione su un sistema a capotto comunque stiamo andando a utilizzare un primer su una rasatura di pannelli isolanti e mi riferisco soprattutto a quelli in EPS in polistirolo chiaramente non è assolutamente consigliato utilizzare un primer assolvente perché andando proprio in profondità il solvente rischia di sciogliere il pannello isolante quindi nei sistemi a capotto il primer assolvente è sempre sconsigliato anzi è obbligatorio non utilizzare un'altra domanda possiamo usare solo una pittura barra rivestimento per risanare delle micro cavillature bene anche qui ho detto prima nell'ultima parte di questa formazione è importantissimo quando andiamo ad utilizzare dei sistemi elastici quindi prodotti elastomerici per risanare delle micro cavillature è fondamentale e ha un ruolo importante il fondo elastomerico perché è quello che regge la struttura quindi non possiamo soltanto facilmente utilizzare faccio un ciclo molto semplificativo un primer assolvente per consolidare e poi andarci sopra con una finitura elastomerica pittura liscia o rivestimento perché perché chiaramente la finitura quindi la pittura liscia e il rivestimento elastomerico chiaramente non hanno da sole le proprietà per mantenere salde le micro cavillature ma il fondo lo ribadisco ha un ruolo importante e poi va in aiuto la finitura sopra che chiaramente aumenta la stabilità e la tenuta del sistema altra domanda allora quali interventi sono sempre necessari prima di iniziare un ciclo di ripristino allora sicuramente immagino e per esperienza ci sono sempre due cose che bisogna fare una è quello di parlo di ristrutturazioni non parlo quindi in questo caso quindi di di nuovo sicuramente quello fare un lavaggio con l'idro pulitrice quindi se ci troviamo in condizioni in cui non vi sono muffe licheni o quindi funghi sulla superficie sicuramente fare un idrolavaggio a bassa pressione fa sì che andiamo a ripulire tutta la nostra superficie e poi da lì sicuramente partire con un ciclo primer intorno con rasatura finitura finale nel caso in cui invece abbiamo delle dei muschi delle muffe che si sono formate sulla facciata quindi prima cosa necessaria soluzione igienizzante dvb perché è necessaria per andare ad uccidere quelle che sono muffe o vegetazione fare agire e a quel punto portare via che significa o meccanicamente portandolo via oppure con l'idropuritrice e poi andare e continuare con il ciclo quindi diciamo che le situazioni che si vengono che troviamo in quasi tutti i ripristi sono quelle quindi soluzione igienizzante e idrolavaggio altra domanda quanto è importante fare una manutenzione periodica della struttura per mantenerla in buono stato è importantissima è quello che vi dicevo inizialmente la manutenzione della facciata è importantissima e lo dico sempre la facciata l'edificio va a bisogna fare quella manutenzione ordinaria lasciatemi dire straordinaria nel corso degli anni immaginiamo abbiamo tutti noi abbiamo una macchina un'auto un'auto l'auto chiaramente sulla nostra auto facciamo dei tagliandi quindi andiamo a fare degli interventi cambio di olio di filtri di gomme perché di cinghia dopo x anni o raggiungimento di tot chilometri perché perché chiaramente stiamo facendo degli interventi che allungano la vita della nostra auto e la manteniamo sempre in buono stato e chiaramente quindi la manutenzione in questo caso è necessaria per farsi ad arrivare a x chilometri lo stesso caso dobbiamo incominciare a pensare per la nostra facciata la stessa cosa per la nostra facciata dobbiamo fare della manutenzione ordinaria come dicevo prima o straordinaria alcune avranno necessità di alcuni interventi fatti dopo un anno altre avranno interventi da fare dopo 5 10 anni esempio interventi che possono essere periodici annualmente possono essere quello di pulizia banalmente degli scoli dell'acqua ricordiamoci che degli scoli delle canali intasate da fogliame da sporco fanno sì che l'acqua non attraversando quindi non passando nei tubi intasati dallo sporco vada fuori e quindi si va a depositare sulle nostre facciate quindi invece di allontanare l'acqua la la manteniamo sulla nostra facciata quindi creiamo muffe licheni vegetazione scolorimenti una serie di patologie se noi pensiamo di fare della manutenzione nei vari anni dopo la ristrutturazione sicuramente la nostra facciata avrà dei benefici in quanto durabilità quindi secondo me la manutenzione è fondamentale da fare ogni anno la pittura silossanica si può definire autopulente diciamo che la possiamo definire banalmente possiamo definire si autopulente proprio per queste proprietà che ha con l'effetto lotus come dicevo prima la le gocce chiaramente rotolando su se stesse vanno scivolano scivolano fuori e scivolando su se stesse chiaramente vanno anche a portarsi dietro quelle tracce di sporco e si sono depositate sulla facciata quindi possiamo dire che ha un effetto lotus altre domande è meglio usare un collante rasante in pasta o uno in polvere diciamo che sostanzialmente non vi sono delle differenze o meglio nella l'unica differenza possiamo dire che nella nella pasta nel nella design cpsb quindi il collante rasante utilizzato certificato utilizzato nei sistemi videoclima chiaramente è un sistema in pasta addizionato uno a uno con cemento grigio 325 ha chiaramente essendo in pasta ha un valore un contenuto di legante elevato quindi certe volte può essere consigliato in tutti quei casi dove abbiamo bisogno di una forza di adesione al di fuori dello standard quindi maggiore ma il prodotto in polvere quindi l'adesan grigio l'adesan cpv22 grigio bianco chiaramente hanno lo stesso tipo di funzione molti trovano più più facile utilizzare impastare un prodotto iniziando dalla pasta altri si trovano meglio utilizzando per praticità bagnando la polvere chiaramente ottenendo subito una miscela già pronta senza l'utilizzo l'ausilio di cemento quindi comunque non abbiamo queste differenze per rispondere alla domanda del tecnico che è arrivata un'altra domanda qual è il primer da utilizzare in un ciclo minerale chiaramente in un ciclo minerale come dicevo prima abbiamo bisogno di un primer minerale quindi nel caso del silicato utilizzeremo il fondo per silicati non abbiamo necessità di un fondo di un primer per i prodotti alla calce come dicevo prima perché basta semplicemente andare a un umidire la muratura bagnando la rifiuto ci sono le ultime due domande vedo in una struttura cavillata è preferibile intervenire con una rasatura armata con un ciclo elastomerico e questo dipende dal caso dipende dalla quantità di cavillature della tipologia di cavillatura dall'estensione delle cavillature ci sono delle situazioni in cui sicuramente è preferibile utilizzare una rasatura armata quindi con un rosante come abbiamo visto un rasante collante in pasta in polvere o con il rasante armaclima che non contiene legante cementizio oppure ci sono delle quindi rasature armata come dicevo quindi rasature e poi l'annegatura della la negatura della della rete oppure ci sono dei dei casi quindi dei casi che vanno visti bene e vanno comunque valutati dove è sicuramente più svelto più veloce e più pratico utilizzare un sistema elastomerico l'ultima domanda i prodotti della gamma viero sono tutti certificati CE sì tutti i prodotti della gamma viero sono certificati e rispondono a quelle che sono le le caratteristiche previste dalle normative vigenti europee quindi per quanto riguarda le malte quindi certificazione CE 998 1 barra 2 per quello che riguarda le finiture dove richiesto la norma europea 15.624 ma come ho detto prima anche il sistema del ripristino anticarbonatazione del calcestruzzo risponde e i prodotti viero rispondono a quelle che sono le normative europee quindi in questo caso la la n 1504 e qui ci tengo come dicevo prima a fare una precisazione noi andiamo viero va ad intervenire su dei casi non strutturali quindi andiamo ad intervenire con le nostre malte dove su quelli che abbiamo visto prima quegli interventi il nostro scopo i nostri prodotti non sono adatti per ripristini di dighe viadotti eccetera ma sono studiati quindi in classe R2 per tutte le tipologie di intervento sui nostri edifici bene spero di essere stato di non essere stato troppo veloce su alcuni argomenti ma comunque potete rivedermi sulle registrazioni che trovate su youtube spero di essere stato esaustivo sulla maggior parte degli argomenti e comunque andrò a rispondere a tutte quelle domande che per mancanza di tempo ora non posso fare andrò a rispondere singolarmente via email vi ricordo prima di salutarvi che questo era il primo dei quattro webinar che Viero ha predisposto per il 2016 quindi il prossimo il il 18 marzo quindi parleremo di cappotto come evitare gli errori più comuni di progettazione posa molto interessante perché chiaramente si vanno a verificare quelli che sono gli errori e la cosa cosa comporta una cattiva posa del dei vari del sistema il 29 di settembre riqualificare con il cappotto edifici già isolati altro argomento interessante e molto attuale è l'ultimo il 25 di novembre edifici dai colori perfetti casi studio per la scelta del colore in facciata le soluzioni viero ricordo che tutti i partecipanti a questa formazione riceveranno via email l'attestato di partecipazione a questo webinar mentre tutti coloro che parteciperanno a tutti e quattro i webinar alla fine dell'anno riceveranno un altro quindi in aggiunta ai quattro attestati che avranno già ricevuto riceveranno un ulteriore attestato che di livello superiore che va chiaramente a completare la la formazione di tutto l'anno altra cosa vi ricordo come vi ho detto prima la la nostra accademia la nostra scuola di formazione tecnico pratica quindi vi invito a visitare il nostro sito chromocampus.it dove troviamo tutte le trovate tutte quelle che sono le informazioni sui corsi in aula con parte teorica e parte pratica le date dei corsi la spiegazione dei vari corsi e anche tutta una serie di documentazione di ebook o altro o altro materiale formativo interessante quindi che potete scaricare dal sito chromocampus chiudiamo con dirvi quindi iscrivetevi alle nostre newsletter per tenervi sempre informato su quelle che sono le novità in campo viero quindi sia non solo di prodotto e di cicli ma anche tutta una serie di articoli di ebook che ci possono essere seguiteci chiaramente su siete già tantissimi su facebook youtube e su archilovers e ricordo che per qualsiasi tipo di informazione o consulenza perché ricordiamo che viero ha su tutto il campo nazionale una squadra di tecnici quindi una serie di colleghi che sono a vostra completa disposizione per fare dei sopralluoghi completamente gratuiti quindi veniamo in vostro aiuto vi diamo una consulenza vediamo che tipo di intervento fare e vi rilasciamo una relazione dettagliata con foto una prescrizione di ciclo dei cicli di intervento dei prodotti viero tutto questo lo potete fare scrivendo o in questo caso quindi scrivendo sulla parte informazioni del sito vierocotis.it oppure semplicemente chiamando il nostro servizio clienti aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 18 dove quindi al numero 800 825 161 dove quindi per una risposta veloce o comunque per prendere appuntamento le persone del numero verde dirotteranno se un problema un contatto veloce gireranno subito la chiamata a un tecnico oppure semplicemente prendete appuntamento per per un sopralluogo vi ringrazio per la per la vostra attenzione e ci vediamo il prossimo mese con il prossimo la prossima formazione grazie a tutti e buona serata grazie a tutti grazie a tutti Grazie.